Ma che sei venuto a piedi? In corriera, non sono mica laudista come te io, eh. Ecco la mia bella famiglia riunita. Cominciamo bene, cominciamo. E' venuto qui per l'omazzo anni. Falso. Ciao. E' successa una cosa molto grave. Zitto, zitto. Dolcetto, scherzetto. Seguitemi. Mi resta poco tempo. Mi serve un rene. Non ho capito che ha chiesto. Mi volevo cambiarlo, sto mondo. Mi vergogno tanto. Ho sbagliato tante volte mai, che lo so già. Io ci ho provato finché ho potuto, Antonio. che adesso sono proprio arrivato. E' una bella sensazione, quella di lavarsi la maschera e mostrarsi così, come si è veramente. Ta-da! Ci metti 14 secondi a morire, conta! Voglio dire pure stavolta che non c'è problema. 10, 11. La passano liscia, tutto a posto. 12. Spero che il meteorite... 13, 14! 13, 14! E stermini tutta l'umanità. Eventualmente poi uno, un rene, se lo può riprendere o è compromesso? Magari la coppa dell'olio che la monti e la rismonti. Cioè... Roma. Grazie a tutti